The Sweethearts! All right! Ross, come with me! Oh, a proposito, bravissima! Bravissima, well done! Dopo tre ore già parla meglio di me! Comunque, fortissimo! Ross, qui, è anche lui responsabile per mettere in piedi questa cosa e just volevo fargli un grande applauso a Ross perché si fa una massa così! Magari di avere avuto io un'insegnante di musica così! Negli anni 60, quando ho fatto la scuola in Inghilterra, mi ha solo dato un calcio in the balls! Il mio, eh, but don't worry! Anyway, fantastic shoes! Spero che avete notato le scarpe di Ross! So, made by an Italian in Melbourne! Fatto da un italiano a Melbourne! Look at that! Fantastico! Quello sì, sono sole shoes! Now Ross, una domanda perché? Intanto, Alexia ritorna! Yeah! Ritorna con un grande amico di Pareto Soul! Quindi, non andate via che ma molto poco! Organizzano intanto una veloce cambio a palco e chiedo una domanda a Ross! Just one question! Do you prepare up the girls in school time or after school? Io volevo chiedere se lui prepara una show così durante lezioni o dopo scuola o after school? Um, we do it mainly after school, but they do do some in school, but mostly after school, Rick, yeah! Right, per la maggior parte dopo scuola, ma anche durante la scuola, grandi passioni! Facciamo un round di nuovo! Grande applauso, Ross! And the sweethearts! All right! Thank you, Ross! Aplausos Thank you, Ross! Grazie a tutti!